Benvenuti a tutti e ben ritrovati amici della sfida, in questo caso sfida relativa all'operatività in opzioni. In questo caso dobbiamo andare un attimo a fare un piccolo punto della situazione per la strategia che era stata proposta proprio relativamente alle opzioni. In questo caso la strategia era sull'euro, il sottostante di riferimento quindi il futures dell'euro con scadenza settimana. La strategia era per l'appunto un bull put, quindi una strategia non ribassista con strike venduto a 1.11 e strike acquistato a 1.10 e 50 con scadenza come possiamo vedere 6 di settembre. Per quanto riguarda la strategia noi come sempre siamo entrati al prezzo medio indicato proprio nel momento in cui la strategia è andata online che era un prezzo medio di 0.0006 dato proprio dal differenziale, da quello che abbiamo incassato dalla venduta e quello che invece abbiamo pagato a copertura per l'operazione acquistata. Come possiamo vedere in questo momento noi siamo entrati con 5 contratti che ci hanno permesso di incassare 375 dollari. In questo momento la strategia è in sofferenza e possiamo vedere tramite anche il grafico dell'euro come possiamo vedere siamo anche vicini a dei livelli di stop loss. Tuttavia siamo sì in sofferenza ma ancora vivi e soprattutto basta veramente anche poco per girare diciamo questa situazione di sofferenza in una situazione di profitto. Perché? Perché mancano pochi giorni la scadenza. Oggi siamo al 20 di agosto la scadenza è 6 di settembre quindi poco più di due settimane e quando andiamo a vendere opzioni sappiamo bene che gli ultimi 20 giorni sono determinanti per quanto riguarda il decadimento temporale. Cosa significa? Significa che negli ultimi 20 giorni il valore delle opzioni tende a crollare proprio perché arrivano verso la scadenza. E quindi questo ci permette di avvicinarci sempre di più alla possibilità di ottenere un profitto proprio dalla strategia che abbiamo impostata. Questo è anche il motivo per il quale quando impostiamo delle strategie in vendita di opzioni diciamo che il momento più pericoloso sono proprio i primi 20-30 giorni. Perché? Perché le opzioni sono ricche di valore tempo quindi hanno molto valore. Il decadimento temporale ancora non si è fatto sentire quindi i primi giorni sono sempre quelli più rischiosi e diciamo che bastano anche movimenti non eccessivamente diciamo accentuati o un aumento di volatilità improvvisa per rischiare diciamo di finire in stop loss o comunque di andare in sofferenza. In questo momento vediamo che il titolo è leggermente sopra il nostro strike venduto perché sta a 1.11.18 quindi teoricamente siamo ancora salvi però siamo molto vicini. Se vediamo il grafico vediamo come andiamo anche a 6 mesi eccolo qua siamo arrivati su dei livelli dei minimi in area 1.11 sul quale ovviamente ci auguriamo che il titolo possa rimbalzare e ritrovare forza. L'euro ha perso molto in quest'ultimo periodo anche perché comunque diciamo c'è stata un'alta volatilità sui mercati globali causati e dovuti soprattutto alcuni tweet scusate terminologia portati avanti dal presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump che come sapete è tornato diciamo a ventilare dazzi sia nei confronti della Cina nei confronti dell'Europa e questo ha fatto indebolire anche l'euro nei confronti del dollaro che invece si è rafforzato un po'. Contro tutte le altre valute però siamo anche sul livello di supporto importante quindi ci auguriamo di poter portare a casa questa operazione operazione che mi raccomando in questa fase va fatta solamente sulla piattaforma simulata non va assolutamente testata non è il momento diciamo per quanto riguarda questa strategia di testarla sulla piattaforma reale mi raccomando siamo qui per imparare perché tutto questo diciamo quello che è poi il passaggio dalla teoria alla pratica lo vediamo prima tramite lo starter pack e poi tramite il trading club dove non avete a disposizione solamente una strategia al mese come nella sfida dei 1000 euro ma nello starter pack ci sono due strategie a settimana da testare sulla piattaforma simulata e nel trading club invece andiamo a mettere operazioni sulle nostre piattaforme reali quindi per chi già vuole fare quel passaggio ulteriore che lo può portare dal diciamo da un hobby da una passione a guadagnare costantemente tutti i giorni esattamente come facciamo noi tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che anche a tutti voi che siete che siete iscritti in questo momento solamente alla sfida di 1000 euro che dalla settimana del 6 settembre del 9 settembre scusate ci sarà la possibilità di di guardare insomma anche le trading room di vedere come lavoriamo all'interno dei laboratori operativi vi verrà richiesto diciamo vi verrà mandato un invito mi raccomando partecipate controllate la mail perché è un'occasione più unica che rara per stare una settimana con noi consecutivamente su tutte le varie operatività quindi non solo opzioni ma anche spread trading commodities eh azionario futures intraday e tutto quello che facciamo e in più di ascoltare anche le voci della nostra community e vedere come lavoriamo sui nostri conti reali e come raggiungiamo quei risultati che vedete all'interno poi del nostro del nostro sito così potete anche verificare che non sono assolutamente inventati eh inoltre vi ricordo che tutti coloro che partecipano alla sfida di se vogliono approfondire tutto quello che facciamo andando sulla pagina sfida di 1000 euro scopri gli starter pack si può andare anche a sottoscrivere lo starter pack di riferimento in questo caso vedete tutta la guida quindi leggetevela per bene ovviamente avete sempre la possibilità dello sconto di 50 euro inserendo il codice sconto sfida lu in fase di acquisto quindi invece di 299 a 249 euro nello starter pack come anticipato ci saranno strategie tutte le settimane avrete molto materiale eh aggiuntivo quindi anche con il money management ad esempio con le diciamo anche per scoprire come eh andiamo a selezionare le operazioni per andare ad acquistare o vendere le opzioni e ovviamente anche tutto il materiale relativo alla trader workstation quindi prezzo veramente eccezionale con un ulteriore sconto che insomma non fa assolutamente mai male quindi io vi aspetto o nello starter pack oppure mi raccomando guardate le mail dal nove settembre nella settimana che apriremo a tutti voi per mostrarvi anche come lavoriamo altrimenti vi aspettiamo con la prossima strategia per quanto riguarda la sfida nelle opzioni io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto i nostri prossimi appuntamenti grazie grazie